È stato scoperto, grazie al fiuto dei cani antidroga, con oltre 140 grammi di cocaina ed è stato così arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette un cittadino straniero, è successo in Valdarno nell'ambito di una serie di controlli portati avanti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo. Nei giorni scorsi le fiamme gialle della Compagnia di San Giovanni Valdarno, assieme alle unità cinofile di Firenze, hanno infatti deciso di controllare un uomo segnalato con insistenza dai cani, una circostanza ritenuta dai militari indicativa della possibile presenza di tracce di stupefacenti sulla persona che avevano di fronte sulla sua automobile. I finanzieri poi, nel corso dell'identificazione, hanno notato un atteggiamento nervoso, da qui la perquisizione nell'abitazione nel comune di San Giovanni Valdarno, dove le fiamme gialle hanno trovato 144 grammi di cocaina suddivise in panetti e quasi 2.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Dalla perquisizione sono saltati fuori anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.